buongiorno a tutti e bentornati ai leoni files il podcast settimanale dell'istituto bruno leoni come sempre con carlo amenta in clima ormai pre vacanziero attanagliati da una domanda ma insomma la domanda che attanagli a tutti è ma sti vaccini funzionano non funzionano ti mandano in ospedale non ti mandano in ospedale ti spuntano i tentacoli ecco ti ricrescono i capelli perché c'è una speranza per me quello no però per parlare per parlare di vaccini siccome noi non capiamo nulla allora abbiamo invitato caro carlo sergio abbrignani immunologo statale di milano professore che di queste cose si occupa per lavoro con competenze in realtà la sua competenza principale lo diciamo chiaramente è la grandissima esperienza musicale ma noi oggi poi torneremo ma no poi su questo torneremo ci torniamo ci torniamo ciao sergio grazie ciao sergio bentornato ai leoni files ciao carlo al quadrato ecco e io partirei proprio con una raffica di domande cioè la prima domanda ciao te l'avranno fatta 100 miliardi di persone noi siamo la 100 miliardi e unesima e duesima sti vaccini danno davvero protezione dall'infezione da coronavirus allora guarda in questo anno e mezzo di pandemia abbiamo una sola certezza una anzi due una che questo virus il SARS-CoV-2 è letale è letale perché insomma negli ultra sessantenni uccide dall'1 al 2 per cento quando infetta e la seconda è che i vaccini funzionano estremamente bene tutto il resto discutiamo però partiamo da questi due punti indiscutibili e lo dico ormai siamo arrivati non soltanto con gli studi di fase 3 di registrazione che hanno mostrato un'efficacia del 90 95 per cento contro le varianti quelle facile ma abbiamo anche ormai i dati su decine di milioni di persone in paesi come israele la gran bretagna che hanno vaccinato tra il 70 e l'85 per cento della popolazione e li hanno dati proprio indiscutibili che se sei vaccinato riduci in modo impressionante il rischio di ricovero in terapia intensiva e di morte ovviamente non azzeri il rischio perché non esiste nulla è sempre un atto medico che ha a che fare con un virus molto pericoloso però se tu scendi da una letalità di 1 su 50 gli infettati come era fino a gennaio febbraio in tutti i paesi del mondo occidentale ogni 100 che si ammalavano due morivano ed erano fondamentalmente ultra sessantenni e i soggetti che morivano e oggi si è passati a una letalità che prima era 1 su 50 ora è fra 1 su 500 e 1 su 1000 indiscutibile in tutti i paesi osservata in gran bretagna ora che hanno una variante super diffusiva che abbiamo anche noi dove hanno vaccinato più del 70 per cento della popolazione con due dosi quello che hanno è un numero elevato di infezioni perché corre moltissimo questa e c'hanno ancora un 30 per cento i giovani che non sono vaccinati e una percentuale di vaccinati che può infettarsi ma non fa quasi mai la forma grave se non in casi rarissimi e quindi quello che vedono è che hanno 60 70 mila infezioni fossero stati a febbraio quando a febbraio avevano 60 70 mila infezioni avevano 1200 mille morti 1200 giorno ne hanno 70 80 secondo il giorno scendono a 50 vanno a 110 quindi una riduzione e anche i ricoveri in terapia intensiva che diminuiscono quindi per rispondere in modo un po lungo ma fondamentale l'unica cosa in cui siamo certi è che i vaccini abbassano o mitigano come diciamo in gergo il rischio di ammalarsi in modo molto serio e di morire di SARS-CoV-2 e la sua malattia che è il covid in modo indiscutibile ecco Sergio la prima volta che sei venuto proprio a parlarci dei vaccini ancora eravamo diciamo in una fase in cui non c'erano non c'erano ancora si cominciava a parlare a discutere di approvazione e ci hai ricordato bene che si tratta sempre di scelte che mettono a paragone no il rischio e benefici come nella medicina ce l'hai spiegato benissimo allora ce l'hai rispiegato ora ecco una cosa interessante invece è questa del contagio perché una come poi ti porteremo anche sul terreno di chi come te fa questo lavoro e nonostante veda l'efficacia e che ci stai spiegando e chiaramente capisce anche la riduttanza di molti perché non tutti sono riduttanti perché sono stupidi alcuni sono riduttanti perché hanno paura e ne parleremo magari ecco rispetto ai contagi alla famosa cosa c'è ma il vaccinato contagia comunque ci c'è evidenza che comunque chiaramente si riduce la percentuale ma anche la possibilità di contagiare da parte del vaccinato è effettivamente minore assolutamente il problema è che la gente non guarda i dati ma i dati ci dicono in modo chiarissimo che chi è vaccinato anche contro la variante delta abbassa il rischio di infezione cioè è protetto dall'infezione nel 65 per cento dei casi vuol dire che due terzi dei vaccinati non si infettano un terzo vaccinati si può infettare se tu non sei vaccinato il 100 per cento cioè il soggetto non vaccinati è infettabile se tu sei vaccinato è un terzo dei vaccinati quindi siccome stiamo discutendo di far circolare il meno possibile questo virus io dico è vero che ci si può infettare soprattutto la variante delta perché con l'alfa il rischio di infezione era intorno al 75 80 per cento cioè c'è la protezione dall'infezione col delta è scesa 65 che è sempre un livello altissimo perché vuol dire che tu protegge quindi che diminuisci il rischio di infezione di due terzi a parte ridurre enormemente il rischio di ospedalizzazione e di morte perché la protezione da ospedalizzazione in terapia intensiva e morte è intorno al 90 per cento anche contro la variante delta quindi insomma un bello scudo quindi sì ci si può allora un contagiato un vaccinato si può contagiare e infettare non fa quasi mai una malattia seria può a sua volta essendo contagiato ed infettato può teoricamente infettare perché non ci sono dati ancora su quanto sia facile che un che un vaccinato possa infettare ma teoricamente non può escluderlo ma miti il rischio riduci enorme perché ridurre i due terzi il rischio di infezione è un dato enorme in un paese che vuole allora tu apri le scuole se non sono vaccinati gli adolescenti se c'è un bambino infettato a scuola in un'aula chiusa la chance che si infettino tutti o quasi tutti è altissima se ce l'hai tutti vaccinati o quasi il rischio che si infettino riduci anziché i 20 ragazzi in classe che si infettano se ne infettano cinque cioè voglio dire è una bella differenza che poi ci avrai cinque famiglie cui poi arriva il virus che vuol dire che se in quelle famiglie c'hai come probabile possibile in alcune dei genitori o dei nonni fragili perché stanno facendo chemioterapia perché stanno facendo terapia immunosoppressive cioè ricordiamoci che l'un per cento degli ultrasessantenni in italia ultrasessantenni sono un po meno di 19 milioni che sono il 98 per cento dei morti sono ultrasessantenni ecco di questa popolazione che è vaccinata per gran parte l'un per cento uno due per cento è fragile nel senso che se anche lo vaccino risponde perché in chemioterapia perché in immunosopressione perché perché in dialisi quindi vuol dire che abbiamo due quattrocentomila italiani che anche vaccinati non risponderanno perché sappiamo che così che l'uno due per cento non risponde perché è fragile perché immunocompromesso o per altre terapie o perché c'è un tumore o perché in dialisi questi qui se gli porti a casa il virus questi muoiono quindi quando mi dicono perché dobbiamo accennare gli adolescenti che tanto lo fanno in forma lieve è vero fanno in forma lieve a parte il fatto che ne sono morti una ventina che sono pochissimi rispetto ai 130 mila morti degli ultrasessantenni che sono quasi tutti ultrasessantenni a parte il fatto che può evitare c'è la morte a 20 adolescenti secondo me è un valore immenso ma a parte questo il valore fondamentale cui non si tiene conto è il fatto che tu non porti in giro col rischio di infettare il virus col rischio di infettare altri fragili quindi ci si può infettare sì con un rischio di un terzo però voglio dire sempre c'è la medicina ogni atto medico devi sempre valutare il rapporto fra il rischio e il beneficio non c'è nulla a fare perché non stai dando caramelle quindi quando valuti questo guarda oggi ho fatto pubblicare e dico ho fatto perché ne sono fiero allora mi hanno fatto un'intervista sul Corriere della Sera oggi e penso per la prima volta il Corriere della Sera ha pubblicato una tabella del CDC di Atlanta prima io ho detto guardate è fondamentale per convincere esitanti altro perché c'era questa storia del il fatto che negli adolescenti è più il rischio del fare una neocardite che del essere protetti il CDC di Atlanta su decine di migliaia di adolescenti e di giovani suddivisi per fasce d'età da 12 a 18 a 18 a 25 25 a 29 ha studiato il rischio di neocardite nei vaccinati e il rischio di essere protetti dall'ospedalizzazione dal ricovero in terapia intensiva e la morte tu lo va a vedere e in tutte le fasce di età nelle femminucce altissimo il vantaggio nei maschietti c'è sempre un vantaggio del vaccinarsi e tutti questi Novax continuano a ripetere non so sulla base di che dati che invece non è vero e che non serve a niente vaccinarsi e che anche il rischio beneficio non c'è vi invito ad andare a vedere oggi nel Corriere della Sera c'è proprio la tabella del CDC di Atlanta che fa vedere esattamente questo quindi con i dati come si fa a dire ora se vogliono il rischio azzerare il rischio in medicina non esiste i farmaci migliori ti curano il 70 per cento dei pazienti i vaccini migliori ti curano evitano la morte e la malattia molto grave nel 95 per cento come questo 90 95 e l'infezione lievo asintomatica in due terzi la evita sono cose astronomiche al punto di vista medico azzerare o abbassare abbassare il rischio in questo modo quindi se parliamo di mitigazione del rischio non c'è niente di meglio dei vaccini da qualsiasi punto di vista lo guardi ci sono gli effetti colaterali? sì ci sono perché sono atti medici anche la tachipirina o l'aspirina oggi se tu prendi l'aspirina sai che c'hai un rischio su centomila di fare un'emorragia molto importante Sergio io non lo volevo sapere no dico nel senso che ormai con questo fatto dei vaccini state tirando giustamente fuori tutte le cose io stavo tanto tranquillo prima capito però è giusto è giusto ricordarlo l'altro giorno per esempio avevo letto a qualche parte che i casi di trombosi in aereo sono diciamo esistono pure allora io l'altro giorno ho preso l'aereo non ci avevo mai pensato detto ma mi deve dire giusto giusto sta trombosi ho preso a straggere che ero perfetto no no viene no viene no no la trombosi d'aereo viene nei viaggi in classe economica di più di sei ore quindi ho rompito quindi sono fottuto no io vado sempre in business lo sai bravo adesso quindi non preoccuparti vai tranquillo in prima in prima in first class quindi no no il rischio beneficia una cosa da valutare sempre e vi ripeto che da qualsiasi punto di vista lo guardi è veramente una sono dati così chiari sulla sicurezza e l'efficacia che poi in realtà non è soltanto un tema medico nel senso che da quando l'essere umano è uscito dal giardino dell'eden c'è questa questa rogna che come dire che la certezza non esiste la perfezione non esiste eccetera vale in medicina vale in economia vale in tutto secondo principio della termodinamica eccetera prima di ritornare sul tema del bacino degli adolescenti e dei giovani su cui ti faremo un'altra domanda io vorrei rivolgerti un'obiezione che direi è l'obiezione dell'uomo della strada se non fosse stata autorevolmente sollevata da due grandissimi intellettuali come massimo cacciari e giorgio agamben in una lettera aperta che hanno pubblicato qualche giorno fa loro dicono guardando ai dati sui decessi negli stati nel nel regno unito che su 117 nuovi decessi ora non so di preciso a che giorno si riferissero circa 50 avevano ricevuto la doppia dose di vaccino e quindi insomma non è così vero se guardiamo al numero dei morti che essere vaccinati ti dà questo grandissimo vantaggio rispetto al non essere vaccinati cosa c'è di fallaci in questo ragionamento e del ciarpame capzioso perché questo è una parte del di quello che noi esperti definiamo cioè esperti che noi definiamo un paradosso il paradosso vaccinale in gran bretagna hanno vaccinato più del 90 per cento degli ultra sessantenni quindi la stragrande maggioranza dei soggetti che possono morire quelli suscettibili a infezioni molto grave morte ovviamente sono vaccinati sappiamo anche che quando diciamo che la protezione di un vaccino è al 93 95 per cento la morte vuol dire che 5 per cento e coloro che si infettano è possibile possono morire però ne proteggi 95 ora quando la stragrande maggioranza è vaccinata è chiaro che in una popolazione come inghilterra avere su 100 morti metà vaccinati e metà non vaccinati un enorme successo ai vaccini perché lì caschi sul 90 per cento popolazione e lì su tutto il left over del 10 per cento quindi è un ulteriore dimostrazione è vero che tu da vaccinato puoi anche morire è un caso molto più raro perché se tu non sei vaccinato il rischio di morte lo moltiplichi per 10 o per cento se tu invece sei vaccinato lo riduci di 10 100 volte a secondo se vai dall 1 per cento o al 5 10 per cento a secondo delle varianti e dell'età perché se c'hai 80 anni ovviamente sei più fragile però anche ridurlo il 90 per cento gli ottantenni stiamo parlando di ridurre la morte delle persone del 90 per cento non è che se non vaccinassero morirebbero di meno morirebbero molto di più perché con questa stessa con questa variante così diffusiva con questi numeri dell'infezione l'ho detto all'inizio con 60 70 mila casi cinque mesi fa in gran bretagna quando avevano vaccinato con due dosi niente l'un per cento la popolazione avevano 1200 1500 morti al giorno con 60 mila casi ora siamo scesi a 100 quindi di che parliamo perché andare a guardare i dati dicendo siccome si può morire di vaccino allora i vaccini non servono a nulla è capzioso perché uno deve i dati li devi scomporre la complessità va scomposta analizzata perché è complessità a guardare i dati di un trial enorme come vaccinare una popolazione se tu guardi dati e ne parli con qualcuno che i dati li sa leggere e ti spiegherà esattamente questo allora il paradosso vaccinale sai cosa dice che se tu vaccini 100 per cento popolazione e ci potremmo arrivare teoricamente con l'obbligo vaccinale 100 per cento popolazione vaccinata avrai che di tutti i vaccinati ultra sessantenni il 5 per cento potrà morire se si infetta e quindi tu concluderai che sono tutti vaccinati e continuano a morire ma che cosa vuol dire perché è giusto è proprio è proprio è capzioso è capzioso e allora o è gente che non sa leggere i dati e allora che studiassero qualcos'altro non so non io mi metto a parlare di economia non capendola non metto cioè se io so leggere i miei dati e li so leggere e vi dico che è così ed è così è la base appunto il paradosso vaccinale che noi conosciamo benissimo e non è che nessuno conclude che siccome c'è una possibilità che il 5 per cento muoia allora non vacciniamo cos'è l'alternativa io quello che chiederei cos'è l'alternativa l'alternativa non vacciniamo e torniamo a 130 mila morti in un anno a mille morti al giorno con il lockdown e le restrizioni perché in inghilterra avevano le restrizioni e ne morivano mille 1200 al giorno quindi quando mi dicono tutte queste cose così capziose dico ma anche se voi aveste ragione e non ce l'hanno cioè qual è l'alternativa ritornare a come eravamo prima ma come si fa a non cogliere una il miracolo che hanno fatto i vaccini in 15 mesi tutto aggiungiamo sergio che che se la contabilità dei dati covid è sempre un po' particolare no c'è un leg una distanza fra chi si è infettato tipo a parte che dei 117 bisognerebbe come dicevi tu capire questi 50 sono morti che condizioni avevano al di là dell'essere vaccinati o meno ma potrebbe anche essere un dato di un giorno in cui c'è quella percentuale no nel senso che può essere benissimo che in un giorno tu potresti avere 110 morti tutti vaccinati per un puro caso ma chi leggi i dati quello che fa che anzitutto i morti non li compari con le infezioni del giorno ma con le infezioni di 28 giorni prima perché chi si infetta oggi non è che muore oggi muore fra 28 giorni quindi oddio cioè fra 15 e 28 giorni infatti fai la media delle tre settimane della mortalità anzi della letalità e va a vedere quanti di quegli di quei 60 mila infettati che media ha avuto giornaliera di morti nell'ultima tre settimane è così che stabilisci la letalità perché se lo guardi oggi stai guardando le infezioni di oggi e le morti che si sono infettate 20 giorni prima quindi ora spero che non abbiano fatto questo perché questo sarebbe insomma la sensazione che io la sensazione che io diciamo era proprio un dato preso in un momento carlo l'ha detto 117 di quei 117 50 e sono un giorno solo secondo me diciamo sui dati hanno fatto proprio una strappolazione ripeto forse che serviva alla narrazione e no su questo non entro sergio scusami un'altra cosa utilizziamo no poi ti sfruttiamo perché a questo punto abbiamo tante domande c'è questa narrazione degli anticorpi che vengono meno del sistema immunitario quanto durerà quanto non durerà anche con problemi devo dire forse di raccordo fra il cosiddetto green pass la durata poi di questo di questo lascia passare come quello del commissario auricchio con fracchia la belba umana ecco al momento così sulla base di quello che tu vedi nella letteratura e così via effettivamente è possibile prevedere la necessità di una terza dose e quindi pensi che ci si dovrà attrezzare con uno sforzo di logistica che abbiamo visto è stato straordinario anche quello e no da parte della della struttura commissariale oppure potrebbero gli studi riservarci le sorprese per cui in fondo il sistema immunitario potrebbe non avere bisogno salvo che in alcune categorie come dicevi tu appunto magari over 60 e così via di una cosiddetta terza dose il sistema immunitario se ci riserva una sorpresa più che altro ci confermerà ciò che sappiamo quello che ti dico perché noi dobbiamo lavorare per approssimazione prendendo un modello tutto ciò che sappiamo dei vaccini negli ultimi 40 anni quello sappiamo che non c'è nessun vaccino di quelli che facciamo regolarmente la commemoria duri meno per memoria intendo la capacità di mantenere un livello risposto immunitaria talmente elevata nel tempo che continua a proteggerti ecco la memoria immunologica con tutti i vaccini che conosciamo non dura meno di qualche anno qualche anno intendo 3 4 5 anni perché non si fa nessun richiamo prima di 3 4 5 anni non citatemi spero che non lo facciano i capziosi l'esempio dell'influenza perché l'influenza lì cambia virus ogni anno quindi non è che memoria perché se tu ti reinfettassi nel 2021 col virus del 2020 non hai bisogno di rivaccinarti siccome ogni anno ci sono dei riassortanti se parliamo l'altra volta dell'influenza allora è un virus diverso se tutti i rinfetti con lo stesso virus tu sei esattamente protetto per diversi anni quindi un richiamo andrà fatto o quando decade la risposta c'è la memoria immunologica e decadrà secondo tutto ciò che sappiamo anche che l'immunologia non è scienza non è che sia un ternalotto che tu estrai e dici un mese due mesi quattro mesi quello che sappiamo è che durano anni quello che stiamo facendo siccome è tutto nuovo con questi vaccini rna quello che stiamo facendo è di monitorare non solo la risposta immunitaria che ha poco senso perché non abbiamo un correlato di protezione perché non sappiamo cosa vuol dire una risposta che è cento cinquanta o dieci perché non sappiamo chi è protetto al di sopra o al di sotto in un certo livello ma stiamo monitorando si sta monitorando non è che lo sto facendo io ma si sta monitorando la quanta scientifica i vaccinati quando inizieranno a reinfettarsi perché quello sarà il a reinfettarsi oltre all'atteso che può succedere con le reali quindi il monitoraggio della memoria immunologica ci consentirà di stabilire quando andrà fatto un richiamo con questo stesso vaccino che stiamo utilizzando ora poi c'è un'altra un'altra possibilità di un richiamo che richiamo contro una variante che non dovesse essere più riconosciuta dalla risposta immunitaria indotta dal vaccino attuale che ricordiamoci è contro la variante Wuhan poi è arrivata la variante inglese che è riconosciuta benissimo poi è arrivata la delta che sarebbe la c'è l'indiana che è riconosciuta abbastanza bene tant'è che ci protegge dal 90 95 per cento la mattina severa è morta e 65 all'infezione non possiamo escludere che arrivi se lasciamo tanta gente che si infetti al mondo un'altra variante che potrebbe non essere riconosciuta dal vaccino e allora si correrà in poche settimane a fare un nuovo vaccino contro quella variante si farà un richiamo soltanto una dose visto che condivide c'è tanta memoria condivisa con tre parti non importanti per la neutralizzazione del virus ma che sono importanti a rafforzare la risposta si farà una dose in italia ad esempio su 40 50 milioni di cioè di persone in pochi mesi quindi logisticamente tutti i paesi nei piani di preparazione dovrebbero essere pronti a riaccendere la macchina vaccinazione di massa per un'emergenza che dobbiamo dire ciò che potrebbe allora tutti speriamo che non avvenga tutti speriamo che il vaccino che c'è ora esattamente come con la delta ci dia un buon livello di protezione anche contro la delta però non possiamo escludere che si faccia un vaccino quindi per tornare in un secondo un sommario come memoria immunologica tutti i dati ci dicono che non dovremmo fare un richiamo prima di qualche anno e però stiamo ci stiamo monitorando la comunità sta monitorando come stanno andando i vaccinati tenendo conto che i primi vaccinati hanno un anno di vaccino quelli che hanno fatto i studi clinici la scorsa estate la maggior parte dei vaccinati hanno sei sette mesi vaccinazioni quindi parliamo di tempi che nel mondo delle vaccinazioni è considerata ancora una fase acuta e nessuno pensa a farti un un richiamo perché decade la memoria immunologica in sei mesi perché non è così oppure la possibilità che si corra in fretta e furia a fare un richiamo perché perché si svilupperà una variante sappiamo comunque perché ad esempio moderna l'ha fatto ha fatto una sorta di un test di prova si sono chiesti in quanto tempo riesco a fare un vaccino contro una nuova variante hanno preso la variante sudafricana di cui c'era un focolaio a miami in florida in due settimane e mezzo hanno rifatto il loro vaccino rna utilizzando le informazioni della variante sudafricana l'hanno mandato all'NIH ed è stato utilizzato sul numero limitato di persone hanno visto che in tre settimane loro possono rimettere sulla produzione con un nuovo vaccino quindi pazzesco no ci stiamo avviando la chiusura c'è una domanda che tante persone si fanno e che quindi è importante sulla quale è importante avere una tua risposta come facciamo a essere certi che non ci saranno conseguenze avverse di lungo termine derivanti dal fatto che ci siamo iniettati questo vaccino non c'è certezza assolutamente no questo fa parte ripeto quali sono i vaccini che hanno dato sti gran problemi a lungo termine però assumendo che questi li diano li scopriamo perché ripeto sempre l'alternativa è non vaccinarsi stare chiusi due mesi e perde 10 punti pil avere mille morti al giorno pensando che potrebbero esserci degli eventi che non sono stati registrati in altri vaccini eventi c'è di lungo termine perché altri vaccini hanno avuto problemi non so come ne ha avuti astrazeneca che ha fatto vedere che quando sono arrivate a un milione di vaccinazioni che entro le prime settimane in rari casi una su 100 mila prima dose uno su 600 mila seconda dose ti può dare una trombosi trombocitopenica questo lo sai avverti cioè valuti il rischio beneficio ma eventi potrebbero avvenire anni dopo io mi chiedo e farsi del mare il perché non c'è nessun esempio di vaccini che anni dopo hanno causato problemi ci sono vaccini come astrazeneca che hanno causato problemi nell'immediatezza entro poche settimane pochi mesi quindi dobbiamo ipotizzare un futuro nero catastrofico che deve dirci cosa interrompiamo le vaccini cioè non vacciniamoci e aspettiamo di morire cioè di sterminare l'ultra sessantenni poi poi e questo oppure di far saltare il mondo in italia in due mesi lockdown abbiamo perso 11 punti di pil in due mesi lockdown che facciamo il mondo il lockdown e nonostante questo continuavano a morire con la seconda ondata abbiamo avuto 130 mila morti in 128 mila in 14 mesi di vita perché lockdown lo toglie quindi 14 mesi 128 mila morti mi sembra un bel e quindi qual era cioè mi chiedo sempre quando queste persone così capziose fanno questo punto come fai a escludere io non lo escludo so per certo che nessuno dei vaccini e su questo metto la firma nessuno dei vaccini che abbiamo sviluppato negli ultimi 50 anni nel lungo termine ha dato nessun problema serio a parte i mitomani che pubblicano di cose inesistenti ma ci sono sempre i mitomani cioè al punto di vista scientifico non c'è nessun problema quindi escludendo i problemi acuti nell'immediatezza nelle ore nelle settimane dopo l'infezione cioè dopo la vaccinazione non c'è nessun vaccino ma anche assumendo che questo è qualcosa di nuovo e quindi alla luce questa paura cioè cosa suggerirebbero questi novax cioè tu fai di questa domanda cosa suggerisci e ti aspettiamo aspettiamo cosa mille morti al giorno o fermi il mondo cioè non c'è alternativa non abbiamo capito che stiamo vivendo qualcosa di epocale epocale nel senso che che sarà su tutte le storie fra mille anni il mondo prima e dopo questa questa infezione da covi che ci porteremo dietro per sempre un po come il morbillo che è passato dai bovini all'uomo nell'anno mille ora ci portiamo dietro come fosse un'infezione normale ma quando arrivo e che allora non c'erano quelli che scrivemo di cioè di pandemie e c'erano le pesti soprattutto ma dovesse stata una cosa importante quando il morbillo è passato all'uomo quindi non abbiamo alternative abbiamo un qualcosa che che grazie a dio ci sta cambiando la vita perché sta proteggendo i fragili e sta proteggendo i suscettibili che sono gli ultra sessantenni quindi siccome sono alla categoria allora e tu giustamente diciamo lo puoi dire fai la testimonia no ricorda diciamo il professore abbrignani ricorda insomma che nella vita bisogna ritornare a capire forse ritornare a capire noi ci siamo abituati di sergio per troppo tempo a cullarci nella nella convinzione di una vita senza più rischi questo grazie alla medicina che ha allungato moltissimo e ci ha garantito da moltissime malattie però bisogna tornare a pensare che si vive con il rischio di ammalarsi morire così via in un certo grado di probabilità quindi tutto ciò che ci aiuta a ridurre questa probabilità come i vaccini è un'arma fondamentale aspettando sempre sperando che arrivi anche una cura non è detto potrebbe anche arrivare questo potrebbe essere anche un aiuto in più ecco noi siamo in chiusura permettete me e carlo stagnaro soltanto di ringraziare il professore abbrignani non solo per essere stato con noi ma anche soprattutto per una grandissima opera di divulgazione che fa e costa fatica questo noi lo diciamo chiaramente perché non è una persona impegnata che lavora che ha tante cose da fare e invece si spende moltissimo per proprio spingere su queste che sono dei temi importanti per la salute di tutti quindi sergio ti ringraziamo fino al punto di perdere tempo anche con noi due ecco esatto fino al punto questo la dice lunga sull'impegno di divulgazione questo non ti sarà perdonato ma ti sarà prima o poi rinfacciato grazie ancora grazie domanda flash la colonna sonora della campagna vaccinale la compagna sonora della campagna vaccinale campagna e mi prende la spagna devi dirmelo prima fai pensare qualcosa di eroico c'è quella la camalcata delle valchirie come no 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 quella è scontato quella è scontato la conquista del nuovo mondo vanghelis fece un pezzo per il film the conquest of paradise quando sbarcava quando sbarcaro nel 1492 in america con cristoforo colombo e ci fu il cambio veramente del mondo perché il nuovo mondo che 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 incontrava il vecchio mondo di lì cioè lì incontrava il nuovo mondo e fu veramente una cosa epocale quella musica lì che è molto e solenne e proprio importante quello vanghelis the conquest of paradise e come vedete quando sarà finita la bella il coronavirus il professore abrignani si riciclerà da immunologo a no ma ciò lo sto facendo lo sto facendo già ora e quindi grazie mille grazie mille arrivederci a tutti ciao carlo ciao carlo grazie a voi a presto ciao